Mercoledì 28 agosto, buona giornata, ben ritrovati amici miei, amici di Rossini TV che ogni giorno ci guardate con tanto affetto, un saluto anche a coloro che si stanno godendo questa ultima settimana di ferie o anche coloro che invece ancora devono andare in ferie, fateci sapere magari nei vostri commenti se siete in queste categorie appena citate, insomma se dovete ancora andare in ferie, quindi vi aspetta un settembre che le cipolle di Urbani avevano preannunciato essere un'estate settembrina, quindi un settembre veramente quasi estivo e quindi potete godervi le ferie anche a settembre. Andiamo a vedere com'è il meteo, quindi oggi una giornata bella, un po' nuvolosa la mattina, infatti un po' di nuvole le abbiamo viste anche noi arrivando qui in redazione in via degli Abetti, nuvoloso soprattutto la mattina ma poi il pomeriggio, vedete temperature, cielo sereno, 29 quasi 30 gradi, quindi stiamo vivendo dei giorni davvero molto caldi, un caldo che ci accompagnerà anche per questo prossimo fine settimana, infatti vediamo la regione, il tempo è prevalentemente asciutto, salvo sull'Appennino che ci sono alcune piogge locali temporali, altrove nuvolosità in aumento nel pomeriggio. La nostra webcam si accende nel rifugio Chalet Corsini, questa struttura che è aperta in estate e in inverno e che è una struttura d'accoglienza, di intrattenimento, di buon cibo, insomma che noi poi con le nostre telecamere abbiamo ripreso proprio nei giorni dell'inaugurazione diversi anni fa. Avete come sempre la possibilità di partecipare alla nostra trasmissione scrivendoci messaggi su WhatsApp e come vi ho anticipato ieri da settembre circa avrete la possibilità anche di intervenire telefonicamente in diretta nella nostra rassegna stampa. Quindi poi vi spiegherò meglio le modalità nei prossimi giorni. Intanto andiamo alla lettura delle prime pagine dei quotidiani partendo dal resto del Carlino, fotonotizia dedicata a Massimiliano Santini, ex creativo del sindaco Ricci, ora al centro del caso Opera Maestra. Il palio dei bracieri è roba sua perché lui ha registrato il marchio a suo nome, quindi quando era nello staff di Ricci, quindi diciamo il palio dei bracieri è cosa sua e non del comune. Muore dopo mesi di agonia e giallo il caso di questo cinquantenne di Montecchio, si ipotizza un virus o un batterio e ora è stata disposta l'autopsia. La denuncia di una donna di 70 anni che si è trovata a dover andare al pronto soccorso di Pesaro ha fatto una fila di 12 ore e ha raccontato un po' quello che è successo in queste 12 ore. Il giorno dell'incontro tra Matteo Ricci e Matteo Renzi, festa dell'unità stasera alle 20.30, ci sarà il dibattito e il confronto tra i due politici. E poi una smentita oggi, in cui in questi giorni si diceva che l'ABS voleva essere venduta ai cinesi, invece Giancarlo Selci risponde e smentisce queste indiscrezioni. E poi slitta il ponte ciclopedonale, ce la faremo entro fine anno, oggi la risposta dell'assessore Riccardo Pozzi, dicendo che ci sono stati un po' di intoppi e di rallentamenti per questo ponte, ma che entro l'anno sarà pronto. Schianto a Ferragosto, Vilma Orlandi non ce l'ha fatta, la notizia che abbiamo dato ieri nel nostro telegiornale. Poi ripulito il busto di Collenuccio, le piccole cose contano molto. Per quanto riguarda il basket, tantissime persone a vedere gli allenamenti ieri pomeriggio, noi ve li faremo vedere questa sera nel nostro telegiornale, gli allenamenti della VL a porte aperte, poi calcio, rialziamoci subito dopo la sconfitta appunto della VIS. Il Corriere Adriatico, asilio obiettivo rilancio, si fa un'analisi, anzi hanno fatto un'analisi le assessore del Comune, per il prossimo anno scolastico ci si concentra sui servizi per la fascia 0-3 anni, da una parte si punta a ricavare più posti per i bambini, posti che come sapete servono tantissimo, dall'altra a riqualificare le strutture. Anche il georadar per l'intervento di recupero dell'ex Bramante, in cui sono arrivate le ruspe. Per i bolli non pagati, invece una valanga di avvisi, la modalità è un caos. A Fano, il terzo settore, la grande risorsa di 8.000 persone. Sempre a Fano tenta di svaliggiare una casa e è stato arrestato dai carabinieri. E poi anche qui la notizia di questa storia veramente terribile, di questo uomo di 50 anni, di Vallefoglia, Thomas Salvi, aveva solo 50 anni e è morto sul letto dell'ospedale San Salvatore di Pesaro, dopo un'agonia lunga settimana in lotta contro qualcosa di indecifrabile. Neanche i medici ancora sono riusciti a capire che cosa è successo a questo povero uomo. E allora partiamo oggi dal Corriere Adriatico, andiamo alle pagine che ci portano a parlare di scuola. Ecco nella pagina 6 che vediamo la scuola, quella riguardante proprio gli asili. L'obiettivo rilancio, strutture riqualificate e più posti per i bambini. A due settimane dal nuovo anno il comune si concentra sulla fascia degli 0-3 anni, interventi a Lilliput e Grande Quercia si corre per avviare i lavori a Torraccia. E allora dopo i cantieri già partiti per la scuola elementare Anna Franche, le scuole medie Manzoni e Alighieri, e questo tra progetti già da tempo avviati, altri in itere interventi di consolidamento e riqualificazione dell'esistente di avviato. Per esempio c'è il futuro Scarabocchio di Via Rigoni, oggetto di un intervento da 3,7 milioni di fondi PNRR per una volta ultimato, che una volta ultimato i lavori sono iniziati l'anno scorso con demolizione e ricostruzione. E poi qui nell'articolo potete leggere tutti, in rassegna tutti i luoghi, gli asili, anche le scuole che verranno prese in considerazione per quanto riguarda appunto la ristrutturazione e la riqualificazione. Si bonificano cisterne dismesse emerse nei lavori alla Manzoni durante l'intervento dell'antisismica alla media di Villa San Martino. A due settimane esatte dalla ripresa delle lezioni scolastiche, l'attenzione torna a focalizzarsi sulle scuole e in particolar modo sugli edifici nei quali ci sono cantieri aperti. Ormai è ben visibile la struttura del polo per l'infanzia di Via Rigoni che da appalto verrà consegnato a gennaio 2025. E si parla sempre di lavori di ripristino, in questo caso siamo all'ex Bramante, arrivano le ruspe e gli operai. Un georadar per andare a fondo negli scavi, nel complesso chiuso da quattro anni, iniziati i saggi archeologici propedeutici all'intervento di recupero. Arrivano quindi ruspe e operai in questo cortile che si trova a largo Aldomoro. Era da quattro anni, dal 2020, con il trasferimento in toto di tutti i servizi del comune da altre parti e ora potrebbero però essere fermato dall'importante operazione immobiliare in ballo che destinerà il complesso a residenze e servizi. Al via i sondaggi archeologici, sono partiti questi a commissionare l'indagine della società CDP Real Asset che fa capo alla Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell'immobile. E poi al Campo di Marte, la Cinque Giorni del PD, oggi, questa sera, esattamente alle 20.30, l'atteso confronto tra Matteo Ricci e Matteo Renzi, ma la festa inizia alle ore 18, con l'inaugurazione assieme alla segretaria Bonprezzi. Apertura col botto per la festa Unità Marche da oggi e fino a domenica, Campo di Marte a Baia Flaminia. E ora vediamo che cosa è successo a questo uomo di 50 anni, una tragedia davvero, un uomo in salute, lo vedremo poi anche nel resto del Carlino. Muore in ospedale, sciocca Montecchio per Thomas Salvi, disposta l'autopsia. Il decesso del cinquantenne, padre di famiglia al San Salvatore, dopo settimane di agonia, piange l'Inter Club. Thomas Salvi aveva solo 50 anni è morto sul letto d'ospedale dopo un'agonia lunga settimana, in lotta con qualcosa di indecifrabile, capace di fiaccarlo dall'interno fino ad ucciderlo. A nulla è servito l'intervento a cui si era sottoposto, ad esempio, la milza. A nulla sono servite le continue trasfusioni. La situazione era peggiorata lo scorso luglio e si è aggravata in modo irreversibile nell'ultima settimana. Per questo, dopo il suo decesso, le autorità sanitarie hanno deciso di eseguire un'autopsia, ovvero un riscontro diagnostico, per chiarire le cause esatte della morte di questo uomo. Tra le ipotesi c'è anche quella di un batterio contratto, forse dopo il morso, o la puntura di un animale, oppure una intossicazione che ha scatenato qualcosa simile a una leucemia fulminante. Queste però sono solo ipotesi. L'unica certezza ora è che Montecchio è sotto shock, piange la scomparsa di un ragazzo d'oro, un grande lavoratore, padre di famiglia, lavorava nella ditta di mobili del padre, di divani. Insomma, e qui ci sono anche i ricordi dei suoi amici. Veramente una cosa impressionante, vi daremo aggiornamento su che cosa è accaduto e in tre mesi ha tolto alla vita questo ragazzo in perfetta forma sportivo, così come racconta il padre, che poi vedremo più tardi. E poi la protesta. Sono in tanti in questi giorni a ritrovarsi, magari c'è anche qualcuno all'ascolto, nella cassetta delle lettere degli avvisi, in cui si invita il destinatario a presentarsi a Campanara per ritirare il plico postale. C'è chi subodora persino un raggiro, ma in realtà si tratta delle notifiche della Regione Marche, prevalentemente per bolli auto non pagati negli anni precedenti. Una valanga, c'è chi parla di 19.000 raccomandate, c'è chi ha poco gradito queste modalità, come il commercialista Massimiliano Nardelli, che vedete qui, noto in città anche per la sua attività politica e per il suo passato da consigliere comunale. Ecco qui infatti dice le notifiche, una caccia al tesoro. Un appuntamento da non perdere, venerdì 30 agosto alle 21, presso il Teatro Sperimentale. Ci sarà Luca Argentero, l'iniziativa che prende il nome di Essere Vivi Oggi, dialogo sulla possibilità di vivere pienamente ogni circostanza, rientra tra l'attività di Pesaro Capitale della Cultura, in collaborazione con il patrocino della provincia, Associazione Medici Cattolici Italiani e Città Ideale, l'associazione che si confronta proprio su questo tema. E poi andiamo ancora avanti, ci spostiamo a Fano, qui nella pagina 17 si fa un'analisi del terzo settore a Fano. Iscritti a Fano 159 soggetti ed è davvero un bacino enorme di energia e capacità. Il sociologo Tomassini stima il coinvolgimento di 8.000 persone, risorse che il Comune può valorizzare, il terzo settore locale, è un patrimonio di competenze ed energie, cui l'amministrazione pubblica può attingere a piene mani. Un insieme di associazioni, volontariato, cooperative, fondazioni, onlus, di una qualità quasi in attesa, considerando che a Fano coinvolge dalle 7.000 alle 8.000 persone. E poi sempre a Fano tenta di svaliggiare una casa, è stato arrestato dai carabinieri, è stato fondamentale l'allarme del proprietario che prima di uscire di casa aveva visto una situazione sospetta, una macchina sospetta intorno a casa, intorno a casa, siamo a Ponte Sasso, e così ha deciso di ritornare indietro, questo suo ritornare indietro verso casa ha permesso di identificare, di fare chiamare i carabinieri, di identificare questo ladro e di arrestarlo. Inseguono un ladro e gli trovano anche la droga, è stato arrestato dai carabinieri, un giovane di 29 anni che l'altra sera a Ponte Sasso ha cercato di introdursi in un'abitazione della cittadina. E poi andiamo, lo sport lo vedremo più tardi, intanto andiamo a vedere i nostri amici sui social che io come sempre saluto, invito a partecipare attivamente, scrivere i commenti, cosa ne pensate di quello che si legge, insomma scriveteci e allora regia fammi salutare gli amici, Anna, Ornella, buongiorno Michela, ben ritrovate, e poi Saveria, buongiorno Lorenzo, Gabriella, grazie mille, quindi continuate a scriverci e allora andiamo alle pagine del resto del Carlino, Matteo Renzi e Matteo Ricci, questa sera il ritorno, ricorderò a Renzi i tanti errori che ha fatto, ma lavoriamo sull'alleanza, stasera l'atteso confronto tra l'euro parlamentare e il leader di Italia Viva, appuntamento alla festa dell'unità di Baia Flaminia con inizio alle 20.30. e allora qui potete leggere insomma alcune parole di Matteo Ricci, una forza per oggi non c'è, parole dell'euro parlamentare, una forza che oggi non c'è, parole di Matteo Ricci in preparazione dell'incontro che questa sera catalizzerà l'attenzione della politica nazionale, i cui fari si accenderanno sulla festa regionale dell'unità a Baia Flaminia. Alle 20.30 quando Matteo Renzi tornerà per la prima volta a una festa del PD da quando uscì dal partito per fondare Italia Viva. Lo voglio dire con grande franchezza, dice Ricci, non basta Italia Viva, lo dirò a Matteo Renzi, Italia Viva non è sufficiente, ma ci vuole la volontà di costruire un soggetto con l'ambizione del 7-8%. E poi dalla regione ai sindaci, qui c'è il programma del primo giorno della festa, quindi alle 18.30 c'è l'inaugurazione che aprirà con il dibattito la destra e il falimento del modello Marche, al quale parteciperanno i consiglieri regionali del PD. Alle 19.30 il tema sarà le province a 10 anni dalla riforma con Giuseppe Paolini, presidente della provincia, Stefano Pompozzi, capogruppo del PD della provincia di Fermo e il deputato Irene Manzi. Poi alle 20.30 appunto il dibattito di cui abbiamo appena parlato. Il palio dei Braceri è ufficialmente di Massimiliano Santini, cioè lui ha depositato nel 2022 il marchio, quindi è un evento suo. E allora vedete, in quel momento era dipendente del comune, ma lui a nome suo depositò il marchio e anche il logo del palio dei Braceri. Da allora, detta le regole del gioco, se l'amministrazione intende davvero estromettere opera maestra, dovrà chiedergli il permesso. Ecco qui il palio dei Braceri di proprietà privata, il marchio se lo è intestato, Massimiliano Santini. E Santini a proprio nome ha depositato questo marchio nel 2022, potrebbe anche decidere di venderlo o di esportarlo. Il marchio si legge nella banca dati accessibili a tutti dal sito www.uibm.gov.it si compone della frase il palio dei Braceri realizzata in normale caratteri di stampa, rivendicando la facoltà di riprodurla in qualsiasi forma e carattere e dimensione. Anche lo stemma è stato registrato con i colori, insomma, e la forma delle contrade appunto che che lo conoscete bene. Insomma, questa è la notizia. Intanto, le altre notizie della città ci portano a parlare della BS. BS che, insomma, in questi giorni è stata un po' al centro del dibattito di alcuni pesaresi perché si pensava, insomma, volava, girava voce che volessero eccederla a dei cinesi. In realtà, Giancarlo Selci, lo vedete qui, dice assolutamente no. Innanzitutto, per fare una cosa simile ci deve essere la mia firma che sono il titolare e quindi io lo saprei perché devo firmare da settimane il Colosso della Meccanica con i suoi 3.000 dipendenti al centro di discussioni. Anche il sindaco Andrea Biancani va in fabbrica. Il figlio Roberto mi ha riassicurato sul futuro, quindi tutto a posto per questa azienda che veramente è tra le leader del nostro territorio. Ma dice appunto Giancarlo ma cosa vanno dicendo e vanno raccontando queste persone che vogliono solo il male della società per vedere devo per vendere devo firmare io e quindi dovrei saperlo ed io non ho firmato nulla. In questo momento il mercato è molto debole ma la solidità solidarietà e la cassa integrazione ma tutti hanno sempre avuto i soldi che gli aspettavano quindi diciamo i dipendenti devono stare tranquilli dice Giancarlo perché tutti quelli che lavorano con noi sono sempre stati pagati. Fra le altre cose in questo momento su aziende particolari lo Stato può esercitare la cosiddetta golden power e ciò è il leveto a vendere a società di capitale cinese e per restare in tema ci sono fibrillazioni con il gruppo Ferretti Yot che in provincia Trafano e Marotta ha stabilimenti produttivi a partire da quelli della Pershing fino ad arrivare alla Moki. e poi una notizia ce l'abbiamo fatta davvero finalmente è stato ripulito il busso di Pandolfo Collenuccio in piazzale Collenuccio qui dite Franco Bertini che aveva sollecitato questo intervento ed è stato accontentato e poi si torna a parlare del ponte ciclopedonale sapete che ci sono stati altri ritardi altri rinvii alcuni residenti hanno lamentato un po' d'incuria hanno lamentato una situazione che praticamente si è bloccata e allora oggi parla l'assessore Riccardo Pozzi che dice i lavori però verranno conclusi entro fine anno questo è il collegamento tra via Milano e parco 25 aprile è aumentato dai costi e anche dall'alluvione sono aumentati i costi e anche a causa dell'alluvione insomma ci sono stati dei ritardi e hanno provocato chiaramente aggiustamenti e modifiche in questi mesi quindi dice appunto è un cantiere complesso che nei mesi ha dovuto subire aggiustamenti modifiche sia a causa dei costi dell'aumento di materiale sia per la ricostruzione degli argini che sono stati che si sono rovinati a seguito dell'alluvione quanto ai tempi di conclusione dei lavori Pozzi rassicura è previsto per fine anno quindi sicuramente verrà concluso questo ponte diciamo a fine anno e poi fatti di cronaca andiamo al fiume Foglia dove sono ormeggiate diverse barche i predoni del Foglia sono tornati barca nel mirino furto fallito il proprietario è riuscito a mettere in fuga i banditi che stavano nuotando nelle acque malmose e allora andiamo a leggere che cosa è successo sono le 2.30 dell'altra mattina nella zona del ponte di Soria a circa 100 metri di distanza dal luogo del primo furto qualcuno vede alcune persone nuotare nel fiume Foglia tra melma e materiale portato dalle recenti piogge è il proprietario della barca che immediatamente interviene gridando e mettendo in fuga i ladri i quali escono dall'acqua e si dileguano nel buio poco dopo arriva una pattuglia delle forze dell'ordine ma dei banditi non c'è più traccia è nascosto nei pressi del lungofoglia centinaio di metri più a monte del luogo in cui aveva avuto un altro furto nei giorni scorsi ha notato qualcuno che stava risalendo a nuoto il fiume muovendosi tra le barche arrivando fino alla sua con l'evidente intenzione di finire l'opera lasciata incompiuta insomma bisogna intensificare i controlli anche qui perché visto che ci sono stati dei furti in queste barche non è una cosa chiaramente piacevole e oggi alle 16 si ricorda che nella chiesa di San Carlo Borromeo si terrà l'ultimo addio a Lucio Mazzara che ha suscitato vasto cordoglio la sua scomparsa in tutta la città dottor Lucio Mazzara ex direttore delle poste ed ex giudice tributario tanti messaggi arrivati da quello di Guerrino Madore suo ex dipendente che lo ricorda una persona per bene molto attaccata al suo lavoro e attenta alla persona mia moglie Anna Borgacci è stata la sua segretaria per tanti anni con Lidia Moci insomma tanti ricordi per questa persona e qui vediamo lo stesso questa notizia che secondo me è la notizia diciamo più eclatante del giorno è una notizia terribile di questo uomo di 50 anni che muore senza un perché i medici ipotizzano virus o batterio la moglie dice quattro mesi di agonia è iniziato tutto con sudore tosse e febbre ma non si capiva che cosa avesse questo uomo ora si attende l'autopsia perché i medici stessi vogliono capire vogliono sapere che cosa ha provocato la morte di Thomas Salvi artigiano di Montecchio si pensa sia un virus sconosciuto si pensa sia un morso di un insetto che probabilmente ha avuto diciamo una una conseguenza allergica insomma non è ancora i medici non sanno non riescono a darsi una spiegazione un virus un batterio oppure una reazione allergica insomma lo hanno ucciso in meno di 4 mesi i medici non sanno le cause ma le hanno tentate tutte trasfusioni continue di sangue asportazione della milza prelievi del midollo tac risonanze hanno consultato medici di Roma Milano Perugia Ancona insomma alla fine il corpo di Thomas non riusciva più ad espellere liquidi e il suo cuore si è fermato per sempre quindi qui c'è il racconto lo hanno curato all'inizio con antibiotici sembrava rispondere alla terapia ma era una falsa illusione è stato ricoverato agli infettivi poi in chirurgia dove ha preso una polmonite poi superate ancora in ematologia insomma gli è stato asportata la milza perché sembrava che il suo rigonfiamento fosse la causa di tutto ma in realtà subito dopo le condizioni sono peggiorate insomma il padre dice lavorava da sempre con me nella nostra ditta di divani la simbiosi di via pantanelli è sempre stato bene mai un problema di salute una vita regolare non era di ritorno da paesi lontani ad esempio dove avrebbe potuto prendere magari una puntura di un insetto insomma qui non si capisce che cosa è successo se avremo informazioni ve le daremo chiaramente perché è terribile questa vicenda in quattro mesi perdere la vita in questo modo e ancora non si sa il perché si farà una biopsia per cercare di capire se si riesce insomma le cause di questa morte restiamo a Vallefoglia paura l'1.30 della notte scorsa ecco vediamo qui la pentola sul fuoco e si addormenta rischio incendio quindi si addormenta paura scusate all'1.30 della notte scorsa per un principio di incendio in una palazzina di Morciola un inquilino del terzo piano ha lasciato acceso sul fornello un pentolino con l'acqua ma in breve tempo l'uomo si è addormentato intorno all'1.30 gli inquilini hanno iniziato a vedere uscire del fumo dalla cucina insomma un intervento chiaramente quello dei vigili del fuoco efficace e veloce che ha permesso di bloccare questo piccolo fuoco che si era diciamo creato e quindi non provocare grossi danni la notizia che abbiamo dato già ieri riguarda lo schianto a Piobbico Vilma non ce l'ha fatta aveva 67 anni abitava a Ginestretto era lei una delle protagoniste di questo incidente che c'è stato appunto a Vallefoglia gli altri che erano nelle macchine insomma si sono salvati lei purtroppo non ce l'ha fatta e poi la fanta politica ha svelato il giallo di questo mega yacht che avete visto a Pesaro uno yacht bellissimo e allora è del banchiere Borodin che è rimasto in rada al porto di Pesaro per almeno tre giorni ignoti motivi Andrei Borodin banchiere russo oppositore di Putin a Pesaro per tre giorni svelato il giallo di questo mega yacht dentro c'era il banchiere appunto una sosta per incontri diplomatici forse per alcuni la tre giorni pesarese sarebbe legata alla presenza nella villa del San Bartolo di Sergei Matvienko il figlio della zarina e gli osservatori ipotizzano non è venuto di certo per la biosfera o per la cella di Vasco per la cronaca il figlio di Valentina Matvienko appunto questa zarina è stato nella villa di famiglia la madre non viene ormai da anni anche alla fine di giugno non arriva con la fanfara al seguito profilo basso quindi è possibile che sia venuto qui per lui allora il resto delle giornate pesaresi sono queste ha passato appunto il banchiere mezza giornata nel mare nella spade del lake celsioro con tanto di massaggiatrice poi portata anche sullo yacht quindi serata cena Apollo pasta e pizza dopodiché il giorno successivo anche un salto nella Repubblica di San Marino prima di andare a vedere ecco questo parcheggio di 12 ore al pronto soccorso andiamo a leggere i messaggi regia buongiorno ribadisco ancora che il pronto soccorso di Pesaro non funziona è vergognoso stai un giorno intero o muori o non esci curato bisogna andare in Romagna ma la gente non lo capisce sembra che c'è un medico per 100 persone anzi se fosse uno solo forse si meriterebbe di più c'è una flemma e buongiorno Filippo oggi si rientra in azienda tutti operativi Nicoletta buongiorno anche a te buona giornata a tutti i telespettatori Loredana buongiorno da Montellabate ieri sera a Farneto per la settimana della Pesaro capitale italiana della cultura poesia e storia e Don Ciro Scarlati serata suggestiva e piacevole grazie Loredana per avere condiviso con noi questo appuntamento domani vedrete in tv lo speciale alle ore 21 e 20 dedicato proprio alla Montellabate che questa settimana è capitale della cultura e allora riprendiamo la vostra analisi lo sappiamo tutti insomma la situazione è quella del pronto soccorso di Pesaro forse è la situazione anche di altri comuni nella provincia pazienti parcheggiati nei corridoi insomma le poche volte che ci sono andata per fortuna anche io ho visto la situazione barelle con gente appoggiata da tutte le parti privacy zero cioè sono cose che purtroppo sappiamo rimarchiamo il racconto che leggete oggi nella pagina 9 del resto del Carlino è l'ennesimo racconto e sembra che tutti scrivano la stessa storia perché 12 ore al pronto soccorso ci sono pochi medici infermieri che sono professionali competenti e gentili ma purtroppo sono pochi lavorano in condizioni disumane sotto numero c'è gente parcheggiata nei corridoi pazienti che pur di avere una sedia vengono rimandati in sala d'attesa e zero privacy insomma qui questo è il racconto ma io non lo sto neanche a leggere perché lo sapete anche voi purtroppo e la situazione è questa la signora dice ora scriverò al presidente Acquaroli cambiamo argomento andiamo alla parrocchia di corso 11 settembre perché torna la festa di Sant'Agostino da 30 anni questa festa nella parrocchia che si trova appunto qui a Pesaro sono previsti eventi che elevano lo spirito altri culturali e anche di intrattenimento il programma prevede mercoledì quindi da oggi alle 18 la recita dei Vespri e alle 18.30 la Santa Messa Solenne e poi via via nei prossimi giorni tanti altri appuntamenti ci sono anche dei cori dei bambini la caccia al tesoro in piazzale insomma tanti appuntamenti per la festa di Sant'Agostino invece a Gabice Mare dal 6 all'8 settembre torna il weekend del moto turista tre giorni a tutto gas c'eravamo anche noi alla presentazione di questo appuntamento alla presenza di Francesco Ceccarelli appunto di Visit Gabice poi c'erano chiaramente la sindaca di Gabice Marilla Girolomoni Alberto Paccapelo insomma torna in questo appuntamento in occasione del Gran Premio di San Marino un fine settimana dedicato agli appassionati delle due ruote per scoprire il territorio con tour guidati da percorrere in sella al proprio bolide scanditi però da concerti spettacoli degustazioni quest'anno l'iniziativa si caratterizza con la collaborazione della fondazione Visit Gabice infatti avete appena visto Francesco appunto della fondazione e tutto ciò è avvenuto al Mississippi questo luogo ristrutturato restaurato e qui vedete alcuni componenti appunto di questo di questo evento che appunto sarà proprio dedicato ai motociclisti che faranno delle belle serate per conoscere il territorio ma anche per conoscere appunto la cucina del territorio cambiamo argomento andiamo a Fano turismo primo tempo ospiti italiani in calo qui è stata fatta un'analisi gli alberghi consorziati ha dato il benvenuto a quattro nuove strutture di Fano l'assessore Santorelli lancia il piano particolareggiato ma comunque cresce il turismo straniero con il 4,6% degli arrivi il 54,87% delle presenze mentre calano gli arrivi degli italiani del 2,85% aumentano del 15,39% le presenze quindi si tratta dice Santorelli l'attuale assessore al turismo di un turismo vecchio stile mentre Fano ha bisogno di gente con una maggiore capacità di spesa serve un piano particolareggiato delle strutture ricettive per favorire gli investimenti scuole manutenzione restyling della Decio Raggi siamo sempre a Fano sono 47 gli istituti di competenza comunale parlano gli assessori Maghernino e Ilari che li vedete qua appunto perché anche qui come è stato fatto a Pesaro si fa un excursus un'analisi di insomma degli istituti appunto fanesi che hanno bisogno di manutenzione e restyling partendo dalla Decio Raggi andiamo a vedere Alfio cosa ci scrive Alfio? Alfio buongiorno purtroppo non è solo il pronto soccorso di Pesaro stanno distruggendo la sanità marchigiana e la responsabilità è politica grazie Alfio del tuo commento io penso infatti che non sia una cosa solo pesarese ma che coinvolga anche altri pronto soccorsi allora ritorniamo su questa notizia che abbiamo letto anche nell'altro quotidiano questo furto a Ponte Sasso i carabinieri di Marotta hanno fermato un 29enne di Fano che lunedì ha cercato di introdursi in un'abitazione aveva messo nel mirino una casa a Ponte Sasso ma l'intuito del proprietario quello che vi raccontavo poco fa e il pronto intervento dei carabinieri gli hanno fatto saltare il piano a bloccare il maltenzionato un 29enne residente a Fano con precedenti sono stati i militari della stazione di Marotta l'episodio si è verificato alle 19 appunto il proprietario di questa abitazione è uscito in bicicletta uscendo in bicicletta ha notato una persona strana ha notato un'auto parcheggiata lì senza motivo insomma ha notato delle cose strane è partito comunque pensando non sarà nulla poi nel tragitto si è ci ha ripensato come spesso ci accade un po' nelle cose che facciamo ci ha ripensato e dice fammi ritornare indietro a verificare cosa è successo cosa sta se sono se ho fiutato qualcosa di reale e infatti era proprio così i suoi sospetti erano giusti hanno visto ha visto scappare questo uomo che si stava introducendo nell'abitazione ha chiamato subito le forze dell'ordine l'hanno recuperato in un campo vicino all'abitazione e è stato arrestato quindi un epilogo diciamo positivo a San Lorenzo in campo torna pizza in piazza questo evento che coinvolge solitamente la fine dell'estate soprattutto gli abitanti di San Lorenzo in campo dove si prepara in modo spettacolare la pizza vedete delle esibizioni di questi di questi insomma chef che fanno volteggiare sono i pizzaioli acrobati che fanno volteggiare queste pizze fanno delle evoluzioni eccetera e poi chiaramente queste pizze vengono anche mangiate e poi a Urbino dimissioni in consiglio comunale entrano Donanno Vitali e Cioppi l'avvicendamento era previsto perché hanno lasciato il posto capponi vetri e sirotti approvata la realizzazione di una nuova sala civica H.Mazza 7 tra la chiesetta e il campo di calcio e poi per Fossombrone 18 nuovi agenti il carcere diventa ancora più sicuro ieri c'è stata la visita del sottosegretario alla giustizia Andrea del Mastro accompagnato l'onorevole Antonio Baldelli Fossombrone spiega il sottosegretario anche grazie alla professionalità della polizia penitenziaria è un istituto che riesce a non essere in sofferenza nonostante anche qui si riscontri carenza di organico insomma la carenza di organico c'è dappertutto lo stiamo vedendo purtroppo nella pagina 18 nella recensione nell'analisi di Cecilia Casa Dei c'è il racconto di questa mostra siamo al castello di Pietrarubbia nel luogo che un tempo non lontano è ospitato il TAM il centro artistico per il trattamento dei metalli la scuola voluta è fondata da Arnaldo Pomodoro un grido non taciuto la mostra di sculture firmata Paolo Soro che lui è di Cagliari ma ha adottato qui nelle Marche con un itinerario espositivo che ha inizio all'esterno e prosegue nei locali dove Pomodoro ebbe la sua abitazione è un articolo di cui consigliamo la lettura e chiaramente di scoprire anche questa mostra qui vedete alcune immagini appunto di questo artista e poi si ricorda la nuova vita per Sakamoto appeso al concerto virtuale Kakami appunto si parte stasera invece con la rassegna gratuita di quattro film vincitori di Oscar con le colonne sonore appunto del maestro Sakamoto all'Astra Caffè quindi questa rassegna al Cinemastra scusate questa rassegna che da oggi fino al 5 settembre farà rivedere i film di cui lui ha curato la regia e poi andiamo ancora a un'ultima notizia ma ce ne sono altre appunto nel resto del Carlino andiamo all'antica Casteldurante Urbania perché da venerdì a domenica arriva la quattordicesima edizione dell'appuntamento estivo con il crostolo di Urbania buonissimo 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 fantastico musica intrattenimento ingresso libero poi ci saranno gli abbinamenti tipici chiaramente del crostolo con la casciotta d'urbino i salumi le erbe di campo spontanee quindi sapete il crostolo come fatto uovo estrutto uniti a latte farina una cutura sulla braccia garantisce un sapore inconfondibile difficile da dimenticare a tutte le valorizzazioni del crostolo è attivo anche un marchio di denominazione detto Deco che ha scelto di puntare sul crostolo una prelibatezza più conosciuta della cucina di Urbania e quindi avete questo weekend se non l'avete mai assaggiato per andare a Urbania e vedere questa festa che celebra questa pietanza ormai conosciuta e abbiamo Domenico buongiorno Maddalena e Domenico che dice la volontà politica è quella della privatizzazione della sanità stanno facendo di tutto per portarci a questa disgrazia grazie per il tuo commento effettivamente ogni giorno abbiamo notizie di persone che poi alla fine si rivolgono al privato devono pagare ma sapete la salute quando si si trova in quelle situazioni piuttosto che aspettare magari per alcune situazioni l'attesa può essere veramente molto influente nel litter della malattia e quindi molti decidono di andare contro voglia chiaramente nel privato ma questa non è la soluzione appunto per uno stato democratico non è la soluzione di una sanità così e quindi bisogna fare veramente qualcosa chiudiamo la nostra rassegna con le notizie dello sport vis si ritorna a pensare a questa brutta sconfitta brutta amazzata il titolo stellone il coach dice reagiamo il fano invece non conosce il suo futuro ma l'impegno è comunque massimo e nella pagina 30 potete leggere l'intervista appunto a Dolci che appunto è all'interno del CDA precedente ma anche in quella attuale un ragazzo molto giovane che racconta appunto della sua passione per il basket passione che arriva anche da suo padre e ha raccontato anche quello che è successo ieri di cui vi faremo vedere questa sera cioè in questo primo allenamento a porte aperte più di 200 tifosi hanno assistito a questo primo allenamento oggi invece alle 18.30 a Sant'Angelo invado in programma il primo scrimage della stagione contro Fidenza intanto ecco qui trovate la intervista Nicola Dolci membro del consiglio di amministrazione della VL e qui potete leggere nell'intervista di Mirko Facenda appunto il suo pensiero come stanno andando le cose la prossima realizzazione di Casa VL permetterà al club di poter svolgere le attività in una sua struttura come giustamente si merita e quindi buona lettura ecco qui anche l'altra notizia VL l'entusiasmo è più forte del caldo in 200 a Campanara per l'allenamento tanti tifosi per vedere dal vivo la nuova squadra annullata l'amichevole di Rimini oggi testa a testa scusate a Sant'Angelo invado con Fidenza e allora andiamo a vedere invece che cosa vi aspetta su Rossini TV come sempre tanti gli appuntamenti in ogni ogni volta che aprite che accendete il canale 80 ma questa sera le 21.20 vi mostriamo una bella realtà artigianale c'era qui con noi Nicoletta che ha condotto lo speciale di legno e arte Michele Cristina Made in Italy è veramente un bellissimo racconto quando si scoprono queste aziende noi siamo veramente meravigliati dalla gentilezza dalla passione che ci sono negli artigiani locali ma dovete vedere che cosa fanno questi questo piccolo staff di questa piccolissima azienda legno e arte quindi stasera seguiteci alle 21.20 per vedere di cosa stiamo parlando andiamo avanti regia e poi il nostro telegiornale il nostro telegiornale consueto all'orario delle 19.30 vi aspettiamo tutte le notizie fresche di giornata i vox pop le vostre segnalazioni preziosissime i casi che risolviamo insomma di tutto e di più alle 19.30 in replica anche le 20.30 e allora grazie davvero ecco la regia giustamente ci ricorda il numero per le segnalazioni il numero di whatsapp utilizzatelo perché lo guardiamo sempre vi rispondiamo vi contattiamo immediatamente grazie a tutti voi e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti